Dovrà rispondere di danneggiamento seguito da incendio in relazione all'auto data le fiamme dell'ex direttore dell'azienda di trasporto pubblico Massimo Di Cecca, un foggiano di 39 anni con precedenti penali, volto già noto alle forze di polizia, attualmente disoccupato e identificato dagli investigatori. L'uomo, la notte scorsa intorno alla mezzanotte, avrebbe agito in via Menichella, zona periferica del capologo Dauno, posizionando dei fazzoletti di carta sotto la ruota dell'auto dell'ex direttore, parcheggiata vicino all'abitazione di Di Cecca. L'auto è andata completamente distrutta. Le fiamme, alimentate dal forte vento che espirava anche durante la notte, si sono propagate anche ad altri due veicoli parcheggiati a fianco a quello dell'ex direttore, ovvero una Lancia Y, una completamente carbonizzata ed una Fiat 600. Sul posto una volante della questura, i carabinieri del comando provinciale di Foggia, che hanno notato un giovane scappare a piedi. Lo hanno bloccato e portato in caserma. L'uomo era stato di recente licenziato dal suo lavoro che nulla a che vedere con la struttura è una costola collegata all'azienda di trasporto pubblico.